Sorteggiati i calendari per il Pescara inserito nel girone C, subito l'Avellino all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Si comincia domenica 4 settembre, la seconda giornata in trasferta a Latina, poi il Crotone davanti al pubblico amico. Il 13 novembre l'incrocio all'Adriatico con la Messina dell'ex Auteri sarà tra l'altro rinverdito. Lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Dopo due settimane il Pescara ospiterà il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, allenatore abruzzese di Ari, che ha cominciato proprio la carriera da allenatore professionista, proprio la guida del Delfino, nella stagione 2006-2007. Dunque la prima giornata Messina Crotone, Catanzaro Picerno, Andrea Potenza, Foggia Latina, Gelbison Juve Stabia, Giuliano Viterbese, Monopoli Taranto, Monterosi Cerignola, Pescara Vellino e Turris Virtus Francavilla. Due soste, domenica 25 dicembre e domenica 1 gennaio 2023, cinque turni infrasettimanali. Coppa Italia, primo turno eliminatorio, mercoledì 5 ottobre. Per il calciomercato si avvicina il ritorno di Brosco che si sta mettendo d'accordo con il Vicenza per la buona uscita e firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di promozione del Serie B del Pescara. Per quanto riguarda invece le altre trattative, il ruolo di regista Palmiero aspetta la B, c'è da attendere almeno sino a lunedì, poi però bisognerà trovare la quadra col Napoli. L'alternativa è il lituano Meghelaitis della Viterbese che chiede cash 200 mila euro e non accetta contropartite tecniche. Trattativa, dunque in salita, resiste l'opzione Derisio, il classe 91, ricordiamo originario di vasto. Altre caratteristiche, in una mediana a tre funge infatti da schermo davanti alla difesa, si tratterebbe di un ritorno. Facciamo chiarezza anche su Gucker che non è un play, non ha i tempi del metronomo, in realtà una mezzala che ha agito anche da trequartista nel Pisa, brillante intuizione dell'allenatore Luca D'Angelo. L'austriaco, ex Frosinone, non vuole scendere in cia, al momento in realtà non c'è nulla. E poi ancora per l'attacco, attesa per Sau, lunedì la risposta dell'ex Benevento. Ritorno di fiamma per Alessandro Gabrielloni del Como che ha ingaggiato anche Patrick Cutrone. Gabrielloni in questo momento è la quinta punta, alle spalle di Mancuso, Cerri, Gliozzi e appunto Cutrone. Il classe 94, 148 presenze, 51 gol con la maglia del Como. Potrebbe chiedere di andare a giocare un mese fa, rinnovato sino al 30 giugno 2025, proprio con il club Lariano. Infine non arriverà una mezzala, se Crecco sarà pronto a fine settembre, nei prossimi giorni il consulto decisivo col dottor Tavolieri.